Buonasera a tutti ragazzuoli siamo qui per 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 un bambino in onore di Jesse in onore di Jesse perché vogliamo signori finalmente comprerò uno nuovo skin uno nuovo skin questo è uno skin uno skin di jessy mettiamolo non è bello l'ho comprata jessy cavaliere nero e direi subito di provarla sto registrando il video su tardi per questo sto guardando e mi sono dimenticato dei punti stellari ma rosa intelligente guarda che mi sono un nuovo bro una sorella di jessy tipo non così però porco di l'ultima partitella cioè dai almeno vinciamo terzi o quarti che rompere che rompere come non 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 so se sto combattendo contro 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 dei deficienti ok due diamine due diamine ma è rimasto bo quindi ed è morto la corretta ma un po' va bene concluderemo questo breve video avremmo meglio di provarla da anzi di comprare altre skin le do da fare con i punti fama e niente auguro buona serata una buonanotte a tutti però il video non so soccaricalo adesso domani vedrò nel caso buonanotte